Inzaghi ringrazia Dia e pareggia, la salernitana riacciuffa il Cagliari, finisce 2-2 alla Rechi. Le scelte del neotecnico Granata delineano un ampio 3-4-2-1, Costil chiamato a difesa dello specchio, linea difensiva a tre con Ghiomber a supporto di Fazio e Bradaric, in mediana scelto l'asse Cullivali maggiore, lungo le bande laterali spazio alla velocità di Mazzocchi e Castanos, sulla trequarti tandem Candreva Cabral alle spalle dell'unico centravanti Dia. Ranieri risponde con un 4-3-1-2, scuffe tra i pali, coppia centrale composta da Dossena e Goldaniga con Nandese da Ugello sulle fasce, in cabina di regia siede Prati supportato dalle mezzali Mekombu e Deiola, in zona di tre quarti Gravita Mancoso, davanti scelto il tandem offensivo Luvumbo-Ristano. Prima frazione di gioco che si chiude sullo 0-0 caratterizzata da una prevalente impronta Granata, che sin dai primi minuti di gioco tenta di trovare la via del gol con una lunga serie di cornea. Grazie. 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 Grazie.